Hai un blocco d'artista e non sai come fare? Niente paura, è una condizione fortunata. Nell'80% delle volte il blocco d'artista avviene in una fase della crescita creativa. Quindi stai migliorando, stai tranquillo. È soltanto un momento in cui la tua fantasia, la tua creatività, la tua energia creativa è satura di tutto ciò che gli hai insegnato fino a questo momento. Ha bisogno di nuovi stimoli, dove trovarli? Tutto attorno a te e facendo cose diverse dal solito. Esci, fai una passeggiata, guardati intorno, non pensare a nulla e soprattutto non pensare a questo blocco creativo. Vedi gli amici, vai al mare, gira e guarda molto attorno a te la natura. Se invece non ti va di fare tutte queste cose, sfoglia libri, guarda qualcosa che non è attinente con le tue abituali consuetudini e vedrai che in 4 e 4-8 supererai questa fase e ti troverai migliorato.